Allora, buonasera a tutti, smaltita parzialmente la prima di Champions League parzialmente perché io ripeto, noi, io ci ho sempre creduto per me l'Inter poteva vincere la Champions e l'ho creduto ancora di più dopo i primi 60 minuti cioè fino all'occasione di Lautaro Martini, cioè quando è uscito Zeko, è entrato Lukaku io ho detto questa la portiamo a casa e la vinciamo vedendo il sito impaurito non è successo, lasciamo stare il capitolo della Champions League adesso vorrei dare un voto a tutto il gruppo quest'anno facendo un'analisi giocatore per giocatore partendo dai portieri, Onana beh Onana ha 8 8 perché è un portiere veramente moderno un portiere che lui gioca quasi da regista aggiunto alla difesa cioè tutte le azioni pericolose partono da lui e grazie a lui che l'Inter ultimamente ha iniziato a fare un gioco che è una specie di ragnatela simile a quella che faceva il Barcellone Guardiola anche il City di Guardiola fa ma con giocatori molto meno indicati di quelli che avevano Bercellona e City ricordo ancora i 52 passaggi prima di segnare il gol a Roma e quelli spesso partono da Onana Onana portiere moderno tra i pali è un portiere normale non è un fenomeno un portiere normale ma tra i piedi con i piedi e con le mani è straordinario non si azzardassero a vendere Onana che veramente questa volta mi incazzo con un animale voto 8 Andanovic l'anno scorso due anni fa e tre anni fa io ne ho dette di tutto gotte di crude quest'anno fa una marea di danni all'inizio cioè noi usciamo dal campionato per colpa sua ma anche per colpa di Inzaghi che non l'ha panchinato quando entra Onana secondo me un po' si tranquillizza pare in Coppa Italia pare in qualche partito in campionato devo dire che del responsabilizzato fa meglio fa meglio la Fiorentina tra l'altro fa una bella parata su Jovic gli do 6 però allora Andanovic non rinnovare perché se rinnovi il contratto mi fai veramente incazzare basta finito stop chiuso ok Cordaz Cordaz gli do gli do 6 e mezzo perché ha parato 20 minuti e mezz'ora con i piedi è veramente uno scarpone di prima categoria mamma mia secondo me se andiamo a Capistrello ne troviamo uno migliore a giocare a pallone ha fatto quella parata a Torino che ci ha fatto arrivare terzi saremmo arrivati terzi lo stesso modo perché a Paripunti Colmina andavamo terzi però porca miseria ha fatto quella parata salva risultato 6 e mezzo se l'hai meritato ma anche tu basta 40 anni dobbiamo svecchiare la squadra i due portieri quarantene si andano ad andare rimane solo Nana e poi si prendono due portieri Stankovic e un altro portiere non lo so quale vuole prendere Marotta però dobbiamo svecchiare la squadra dobbiamo partire dai portieri difesa allora Acerbi 10 e che gli vuoi mettere Acerbi ha fatto uno sbarrione con la Lazio ha giocato tutte le partite con una concentrazione massima incredibile in finale ha annullato Holland basta giocatore che fino a primo di settembre era svincolato praticamente dalla Lazio che non lo voleva più ma soprattutto era un giocatore chiuso in un albergo per colpa di quella merdaccia di Zhang preso a 500.000 euro Acerbi 10 non si toscia Darmian 10 cioè giocatore incredibile è stato adattato a giocare in tutte in tutte le parti del campo ovunque mi ricorda un po' Fontolino Fontolan che faceva pure l'attaccante cioè Darmian giocatore splendido esemplare perfetto ce ne fossero i giocatori come Darmian nel mondo del calcio veramente voto 10 assolutamente Darmian 10 bastoni si è in mezzo non una grande stagione per bastoni ha giocato un po' con alti e bassi in campionato si è spesso addormentato su diverse situazioni e ci ha fatto perdere diversi punti posso pensare al gol del Monza al gol della Fiorentina a Milano non sempre attento poi gioca alcune partite ad altissimo livello come il derby con il Milan in Coppa fa una grande prestazione col Benfica lì a Lisbona però non è stato il bastone degli altri anni quindi non gli do più di 6 e mezzo D'Ambrosio 6 di stima però anche tu D'Ambrò basta siamo arrivati a capolinea quindi io direi che ti do 6 ma proprio perché sei una persona seria impeccabile perfetto però guarda finito qua non aggiungiamo altro alla tua carriera all'Inter saluta tutti baci arrivederci grazie sei stata una persona preziosa e non ti si può dire niente hai sempre risposto presente però quest'anno ti vedeva proprio che non riuscivi a carburare poi eri spesso rotto durante la stagione quindi più di 6 non ti si può dare De Vrai rispetto all'anno scorso che faceva una stagione pessima De Vrai quest'anno ha fatto molto molto meglio gli do 6 e mezzo quando è entrato ha fatto sempre il suo giocatore che se gioca così è da rinnovare io me lo terrei De Vrai è ancora giovane è un giocatore che comunque sia de responsabilizzato dalla titolarità un po' come è successo a Andanovic riesce a star concentrato e a giocare sempre abbastanza bene direi che De Vrai 6 e mezzo stagione tutto sommato positiva dopodiché allora passiamo al centrocampo perché Skriniar io sinceramente faccio fatica a dargli un voto 3 praticamente Skriniar non ha giocato ha fatto il finto tonto ha fatto schifo quasi tutta la prima parte del campionato a Oporto entrò 10 minuti non si sa che cosa andava facendo 3 3 Skriniar 3 del suo comportamento per tutto non aggiungo altro Di Marco 8 stagione veramente incredibile giocatore che ha avuto un mese e mezzo di flessione tra febbraio e aprile ma poi è ritornato alla grande ha giocato anche da braccetto di sinistra nella finale di Champions League è stato il migliore in campo secondo me insieme ai due di dietro e niente non gli si può dire niente di Marco perfetto cioè nel senso migliora di anno in anno e poi interista attaccato alla maglia assolutamente 8 Gossens 5 non ha inciso ragazzi Gossens non ha inciso nulla che ci si ricorda di Gossens il gol alla Lazio il colpo di testa che forse ci poteva far pareggiare la partita col Chelsea e con il Mzinti e il resto ho sempre rotto ho sempre fuori forma ho infortunato gli do 5 proprio perché mi sembra anche lui una brava persona un bravo ragazzo ma se deve partire per Milinkovic Savic accompagnatolo alla porta assolutamente allora Brozovic voto 6 prima parte praticamente dove ha giocato male o comunque sia è stato infortunato seconda parte della stagione quando è rientrato ha fatto sentire ha fatto la differenza però diciamo che quest'anno si è visto che non siamo più Brozovic dipendente non ha praticamente inciso nella prima parte della stagione quando è rientrato ha fatto il suo l'ha fatto bene ha giocato bene anche in Champions League però ripeto non è da lui diciamo che è partita questa cavalcata dell'Inter nelle nelle tre coppe gli diamo 6 però insomma secondo me sembra un giocatore valido è sempre un giocatore da confermare però quest'anno ha pagato Dazio con gli infortuni ciao a Noglu 7 ha giocato benissimo quasi tutta l'età tutto l'anno però mezzo voto in meno per la finale di Champions a casa sua inesistente forse è peggiore in campo ha giocato meglio da regista piuttosto che da diciamo da 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 centrocampista centrale nel modulo A3 di Inzaghi Mezzala vai diciamo chiamiamolo Mezzale come Mezzala ha giocato peggio come centrocampista come regista non della difesa ha giocato meglio quindi probabilmente lì è un giocatore che si potrebbe riproporre Barella 7 non sempre al massimo al top della forma però è un giocatore che il suo l'ha fatto ha trascinato l'Inter in parecchie occasioni a Lisbona col Benfica sblocca il risultato però insomma secondo me non è la sua migliore stagione le precedenti due forse sono state meglio Mkhitaryan notte e mezzo notte e mezzo Mkhitaryan perché ha fatto una stagione incredibile un'assoluta rivelazione insieme a Cerbi della squadra la sua mancanza si è sentita nella parte finale della stagione soprattutto nella finale di Champions dove tra l'altro quei 12-13 minuti che ha giocato ha fatto molto di più di Cialanoglu quindi probabilmente poteva entrare anche prima speriamo che si confermi a questo livello perché è veramente un giocatore un giocatore indispensabile per questa squadra anche entrando dopo può fare la differenza Gagliardini 0 non metto voti a Gagliardini cioè perché Gagliardini è un giocatore talmente scarso ma talmente scarso ma talmente scarso che io non voglio più valutare non lo voglio più sentire sei stato purtroppo la notte stonata della stagione insieme a Skriniar è un altro che diremo tra poco Skriniar va bene non ha fatto qualche prestazione discreta ma per il resto purtroppo il suo comportamento lo ha lo ha devastato anche dal punto di vista morale nei confronti degli altri giocatori ma soprattutto anche nei confronti della società e del popolo dell'azzurro Gagliardini invece proprio cioè lui pretendeva di giocare nonostante è un giocatore veramente scadente niente non aggiungo altro dopo l'espulsione di Napoli è la goccia che ha fatto traboccare il vaso ha giocato a 40 minuti ha fatto 5 falli tutti da munizione alla fine e alla fine è stato espulso e ciò che perdono la partita meno male che non è entrato in finale sempre sul league guarda meno male Asilani è probabilmente la delusione più grande un giocatore su cui io avrei scommesso molto ma si è rivelato insomma ancora molto acerbo gli metto gli metto 5 perché è giovane un ragazzo giovane poi un ragazzo posato educato non ha fatto mai una polemica nonostante insomma Inzaghi l'ha utilizzato proprio col contagocce quando è entrato in campo ha fatto vedere ancora che è acerbo deve crescere non so se sarà mandato in prestito vedremo dai vedremo nei prossimi anni Asilani che evoluzione avrà Danfries 5 stagione pessima soprattutto nella prima parte nell'ultima parte si riscopre difensore si attacca a un giocatore e come difensore non è malaccio però se io devo avere un esterno che sa fare solo in questo momento la fase difensiva è davanti non esiste è un altro giocatore che deve andare via punto stop basta non si bisogna aggiungere nient'altro Bellanova Bellanova anche a lui diamo 5 ha pagato probabilmente l'inesperienza ha pagato la partita con l'Empoli è stato un giocatore che è stato poco utilizzato da Inzaghi c'è anche da dire questo è stato spesso beccato dal pubblico quando è stato chiamato in causa non sembra risposto presente mi ricordo la buona prestazione quando ero a Fiorentina quando abbiamo perso sono a 0 e perché no anche diciamo uno scorcio di partita con il City fatto abbastanza bene però a quel prezzo io non so se valga la pena rinnovarlo certo perdere D'Ambris e Bellanova significa rifare totalmente la fascia destra però a destra diciamo che in qualche modo possiamo intervenire sul mercato perché ce ne sono diversi giocatori forti a destra pensiero Achimi pensiero Achimi andiamo in attacco allora in attacco allora iniziamo da Lautaro Martinez beh Lautaro Martinez fa la forza la stagione migliore in assoluto dove però paga la finale di Champions League finale di Champions League dove lui praticamente fa una partita brutta dove non passa la palla al cinquantasettesimo a Brozovic o comunque tenta di imbucare Ederson con un tiro sotto le gambe continua a soffrire le finali importanti non quelle di Coppa Italia e Supercoppa ma è già la terza Europa League inesistente Mondiale inesistente Champions League inesistente comincia ad essere preoccupato per questa tendenza di Lautaro a steccare le partite che contano voto 8 se avesse fatto una gran finale di Champions League gli avrei dato anche 9 perché 9 non 10 è perché c'ha sempre i due mesi in cui lui non segna e scompare dal campo quindi non gli si può dare 10 precisamente perché comunque è un giocatore che per due mesi e purtroppo tra febbraio e aprile come sempre è scomparso dal campo Lukaku volto 6 in mezzo prima parte inesistente seconda parte giocata alla grande purtroppo paga anche lui la fine di Champions League aveva fatto 10 gol nelle ultime 10 partite ci ha fatto entrare in Champions League paga la fine di Champions League dove ricaccia una palla dalla porta sul top test di Marco e lì non l'ha fatta apposta ma è già la seconda volta che accade e poi sbaglia un gol che secondo me si sognerà tutta la notte perché quel gol è lì lui lo deve fare e a quel punto lì può succedere di tutto veramente possiamo anche vincere la Coppa dei Campioni 6 e mezzo Correa voto 3 stagione inesistente non ha fatto mai niente gol al Benfico finito sempre apparentemente infortunato in mezzo al campo completamente spossato cioè altro non possiamo aggiungere quindi Correa voto 3 Zeko Zeko voto 7 perché Zeko si è dannato l'anima io Zeko l'ho contestato perché giocava nella parte finale dell'anno quando era paresemente scoppiato però che gli vuoi dire Zeko ha trascinato la carretta fino a gennaio fino a che ha potuto lui c'è stato anche lì il professionista Serno è una persona a posto ma anche qui Zeko per credere a Dio vai via basta finito grazie per questi due anni ma insomma abbiamo bisogno di altri anche di ringiovenire la squadra gli altri tutti senza voto perché non hanno praticamente giocato Inzaghi 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 voto 8 nelle coppie è stato perfetto anche in finale Champions League ci ha regalato veramente una partita fantastica dove i giocatori gli hanno fatto perdere la partita mentre lui la partita sua l'aveva vinta con Guardiola riuscendo a imbrigliare bene il campionato purtroppo ha fatto diverse cazzate la prima che penso far giocare Andano è fino a metà ottobre e ci ha fatto perdere il campionato Inter-Roma su tutte anche l'Udinese Inter lasciamo perdere troppe volte schiato Cagliardini mai puntato su Aslani ha mischiato le carte della coppia d'attacco cosa che non doveva mai fare cioè ha fatto giocare Lukaku con Correa e Zeko con Martínez rompendo la coppa d'attacco migliore che avevamo però nelle coppie è stato perfetto lui avrebbe fatto Treblat quindi non gli si può dire niente 8 va riconfermato assolutamente altro non possiamo aggiungere voto complessivo dell'Inter mettiamo 7 la squadra riporta due coppie fa la fine di Champions League arriva in Champions League da terza paga per Gagliardini probabilmente la possibilità di fare seconda però fondamentalmente va bene così speriamo che l'altro anno questa squadra si rinforzerà e speriamo insomma che Marotta come sempre riesca a fare un ottimo lavoro insieme agli altri Zang voto a Zang 2 l'unica cosa che gli posso votare è il fatto che è andata a guardare le partite e da questo punto di vista la passione lui ce l'ha però non ci mette un solo centesimo uno solo sarebbe basato un solo centesimo per fare di questa squadra una squadra che avrebbe vinto non un solo anno e altre coppette varie ma probabilmente avrebbe vinto molto e molto di più e forse anche una Champions League è andata così ragazzi ci vediamo al prossimo anno grazie a tutti